Amici di Tecmaki siamo sempre all'evento di Samsung che ha appena presentato l'S9 e l'S9 Plus e in un'altra parte, in un'altra zona troviamo qui tutti gli accessori che saranno ovviamente compatibili con i due nuovi top di gamma. Sono tanti, ci sono anche accessori che ovviamente non fanno parte, o meglio non sono solamente specifici per l'S9 e l'S9 Plus ma direi di cominciare proprio da questo che è il Dex Pad che è una funzionalità di S9 Plus che permetterà di utilizzare, un po' come viene per il Note 8, di utilizzare il proprio telefono come una vera e propria workstation e quindi essere collegata ad un display esterno, purtroppo qui con le luci abbiamo un po' di ombre e tramite appunto connessione Type-C potremmo andare direttamente a collegare il nostro bel S9 o S9 Plus al nostro computer e utilizzare proprio la modalità Dex che tra l'altro vi avevamo già mostrato in un video. Qui invece troviamo due potenti battery pack da 5100 mAh, molto interessanti sono le LED View Cover per S9 Plus, molto molto carine che ti permettono di avere sempre uno sguardo sulla batteria, su eventuali notifiche, tra l'altro anche molto belle, chissà si possono aprire, purtroppo no, sono chiuse. Andiamo nella parte alta, troviamo ovviamente un sistema Arman & Cardon che non è specifico solo per S9, qua in alto invece troviamo delle cover abbastanza belle potenti, belle grandi e poi qua torniamo su invece degli accessori ovviamente sempre compatibili con S9 e S9 Plus il Gear che conosciamo molto bene con nuovi cinturini che probabilmente possono arricchire e abbellire il nostro Gear. Qui troviamo la Gear 360, la nuova, il visore e qui torniamo a vedere degli accessori per l'S9 e l'S9 Plus e in particolar modo queste cover di silicone carine insomma. I colori non sono proprio il massimo della vita, abbiamo un grigio, non so se si riesce a vedere, un grigio più chiaro, un non lo so definire e questo è un verde smunto. Qui ovviamente abbiamo i telefoni in questa colorazione molto carina, questo rosa e blu che però non si riesce a vedere. Altre due cover si sono veramente sbizzarriti, questa volta Samsung con le cover, Hyperknit cover, rosa, rosa antico e grigio. Poi wireless charger stand perché ovviamente S9 e S9 Plus hanno la possibilità di essere ricaricate wireless con questi enormi wireless charging stand da mettere sul comodino. Qui abbiamo il Clear View Standing ovvero un'altra cover che ci permette di poter utilizzare, anzi di appoggiare il nostro S9 Plus proprio su un piano e che poi sono esattamente queste due, tutte molto riflettenti, andiamo di zoomare per bene, riflettenti ma con proprio il display che ci permette di andare a visualizzare le notifiche, la percentuale, la batteria. E niente, qui invece abbiamo il Samsung U Flex Headphone e qua quello che dicevo prima lo stand che ci permette di ricaricare il nostro S9 o S9 Plus. Questa è un po' la carrellata degli accessori e delle cover disponibili per S9 Plus, direi che è proprio tutto. Qui dall'evento Samsung ancora tantissimi giornalisti e visto che sto girando questo video con il V30 facciamo un bel grandangolare così possiamo riprendere ancora di più lo spazio che ci sta accogliendo. Direi che è proprio tutto, un saluto da Francesco Colonna per TechMaki.net. Ciao a tutti! Grazie a tutti!